Ci dedichiamo adesso a un pezzo sicuramente oft, che si intitola Concertino per flauto solista. Difatti il prossimo brano vedrà appunto quale interprete principale il flauto. Scritto da André Weigen, questa sera verrà eseguito il primo movimento dalla nostra giovane Miriam De Giovanni. A voi dunque Concertino per flauto solista. Grazie. 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 Grazie.